Io mi sono sempre dilettato, da quando ero piccolo, a fare ritratti, mi sembra piaciuto, ok? E ho pensato, perché non provare a farlo musicalmente? Nel senso, il ritratto a matita è un ritratto che si limita naturalmente a raffigurare l'esteriorità di una persona. Con la musica però si può andare oltre, si può descrivere non solo esteticamente anche una persona, ma anche dal punto di vista del carattere, dal punto di vista del suo stato d'animo in quel momento o anche come noi vediamo quella persona. E sono andato anche ad informarmi su Google per vedere se esiste una cosa del genere. Il ritratto musicale non esiste, quindi è anche un lavoro nuovo che io farò, se volete un ritratto. E quindi ho provato, in questo pezzo che si chiama ritratto, a fare una cosa del genere. Naturalmente si può ritrarre una persona, si può ritrarre una situazione particolare. E questo qui che vi suono fu il mio primo ritratto musicale.